La Roma in vantaggio, raddoppia la Roma! 2-0 della Roma con il gol di Edin Dzeko! Let's go! Quando le azioni sono stucchevoli, fai il commento Roma che sta attaccando ha avuto l'occasione per passare in vantaggio? Ok, vai! Le tre cose più belle del corso sono la pratica di radiocronaca Il fatto di cominciare a registrare con dei materiali professionali un microfono, delle cuffie, quindi quell'emozione là che senti Sicuramente la prima volta che entri nello studio di registrazione quando ti metti le cuffie cominci a commentare per la prima volta una partita reale